Ma si sveglierà il tuo cuore. È un libro che è dedicato agli immensi orizzonti di questa forma d'arte che è la fusione di tante altre arti, del teatro, del canto, della musica in senso lato, della danza, della poesia. Una cosa a cui tenevo molto è raccontare come l'opera sia un'arte che rinasce sempre uguale e sempre diversa in mille possibili vite in ogni rappresentazione perché l'opera è sempre viva perché viene portata in scena ogni volta da artisti diversi, direttori, registi, cantanti e ogni recita è una storia, un caso a sé.